Presidente Santoro, un debutto sportivo per lei, che da due mesi è il Presidente dell'Ordine e gli Avvocati di Messina, avverrà con una manifestazione che vi riguarderà direttamente, visto che vi saranno dei vostri atleti, una manifestazione regionale, importante, ricorso su strada. Sì, questo è molto importante, noi siamo sulla scia della tradizione del nostro Ordine che ha sempre appoggiato le attività sportive, in particolare abbiamo oltre 15 atleti che fanno parte della squadra di Torre Bianca e quest'anno sarà molto importante perché vi sono dei riconoscimenti nazionali della Federazione anche sul percorso, oltretutto valorizziamo la nostra città nel punto forse più bello, quello dei laghi e del pilone. La Coppa Forense dello Stretto è anche molto ambita, verranno dei corritori da altre città proprio per gareggiare, per conquistare questo titolo e quindi anche dal punto di vista sportivo sarà una bella gara. Sì, noi qua a Messina siamo abituati a vincere, diciamo la verità, anche perché nell'attività sportiva, calcistica in particolare, abbiamo raggiunto grandi trofei. Io ho avuto un'idea e l'ho manifestata agli organizzatori, un altro anno potremmo intitolare questo trofeo Forense ad un nostro iscritto che è stato tedoforo negli anni 60 quando vi furono le Olimpiadi a Roma e l'avvocato Pugliatti, ormai scomparso, un bravo atleta con delle prestazioni sull'atletica leggera molto importanti a livello nazionale e regionale. Si potrebbe fare anche un pensiero ad avere qui magari il campionato nazionale degli avvocati che qualche anno fa si è tenuto a Taormina? Sì, sarebbe importante, noi siamo a disposizione pronti a valutare questa opportunità che valorizzerebbe oltre i nostri atleti anche la nostra città e la nostra economia un po' tutto.